Salve tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo all'installazione di Riot ovviamente c'è chi lo installa per la prima volta e per sbaglio lo installa sul disco locale C dove tiene il sistema operativo e quindi si domanda perché il suo spazio è diminuito oppure ha 30-40 giga su un disco locale C dove ha il suo sistema operativo quindi in questo caso se vuoi installarlo su un altro disco ti consiglio di installare di nuovo Riot e ovviamente andiamo direttamente a scaricare così il programma quindi in questo caso andiamo sulla sua pagina, quindi scarichiamo così il programma, installiamo così Valorant quindi per installare Valorant andiamo su Riot, come puoi vedere sotto c'è scritto opzioni avanzate, clicca su opzioni avanzate scegli così il percorso dove installare il Riot più il gioco ovviamente come puoi vedere io adesso vado ad installarlo sul volume E quindi lo installo qua, faccio ok, mi crea così la cartella Riot Games e faccio avanti e installo così il launcher di Riot più il gioco perché quando lo installai per la prima volta tanto tempo fa mi ritrovai 40 giga nel disco locale C quindi ho sbagliato io ad installarlo quindi in questo caso lo scarichiamo, lo installiamo e abbiamo fatto consentiamo così la connessione pubblica, accediamo con il nostro account Google e installiamo il nostro Valorant una volta fatto non ti resta che riavviare il sistema per far avviare così anche l'isi anti-sheet di Valorant quindi se questo video ti è stato utilissimo su come installare il programma Riot Launcher più il gioco Valorant iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao